amici da coreani bentornati oggi ne dico il nuovo zenith numero 742 campo nemico dove si concluderà la storia iniziata già due albi fa andiamo a dare un'occhiata velocemente come questa bocca lo contiene qualche tavola io ancora non ho letto come sapete lo sfoglio insieme a voi per dargli un'occhiata e vedere le prime impressioni insieme poi asomai riparleremo per la storia che fino adesso è stata una bella storia molto bella scorre bene una bella trama vedremo come va a concludersi allora vabbè la copertina avevamo già vista molto bella si svolge nel fiume con zaga che non combatte con uno dei uomini del soldato social generale ora mi sfugge il nome ok in quarto di copertina vediamo almeno per me la prima volta che vedo sull'albo bonelli la pubblicità delle edizioni digitali edizione digitali dei dei fumetti bonelli cosa ci dice ci dice che trecentosessantamila pagine tex zago mistero martin mistero st del west piccolo ranger chi dice bin nel caso del forrest molti altri ma comincia esserci un discreto catalogo seconda di copertina vediamo se c'è da notare qualcosa nei credits no vabbè copertina dei piccinelli bellissima secondo me il gigante 691 soggetto di cenatura moreno burattini disegni di oliviero gramaccioni ok in più vediamo la già annunciata uscita della parute dei forzati di laurenti burattini laurenti che uscirà in un brossurato il 10 di febbraio se non sbaglio ragazzi vediamo se c'è no non c'è la data ma mi sembra di aver letto qualche parte che il 10 di gennaio questa ragazzi perché non l'avesse letta questa storia è un capolavoro è bellissima ci sono dei disegni eccezionali di laurenti e burattini qui ha dato veramente il meglio di sé secondo me ok tamburi darkwood allora vediamo un po vediamo un po vediamo un po vediamo un po avessi qui comincia moreno ci racconta un po il programma del 2023 di zagor qualcosa abbiamo già letto sulla pagina ufficiale e sul sito della bonelli e qui ce lo racconta lui direttamente mente per iscritto vediamo se c'è qualche cosa di netti anche vedi qui c 10 febbraio ecco dice anche qui ragazzi la parute forzati esce il 10 febbraio poi cosa ci dice alle grandi sulle bonelli ragazzi il 3 marzo la grande storia bonelli ci sarà un'altra storia di zagor l'uomo con il fucile del 93 di ferri scritta sempre da burattini e poi e poi e poi e poi e poi vediamo dunque si ci dice anche che uscirà una della sua storia credo sia già in edicola uscirà tra poco la sua prima storia sulla serie regolare di tex di burattini chiaramente e poi e poi dice che il prossimo numero che ragazzi questo andiamo a vedere subito questo la banda degli assassini in edicola dal 2 marzo sarà una storia autoconclusiva rara vedere su zagor ma qualche volta capita e poi partirà la trasferta ai caraibi quindi staremo via un annetto vediamo quanto ci dice no 7 un po meno di un anno 7 a che narreranno una trasferta del radar nei caraibi ok vediamo come ci hanno già anticipato un po la trama perché saranno tutte storie collegate dunque vedremo il capo dei seminoles manetola cioè il figlio scusate di manetola poi questo attesissimo incontro tra zagor e capitano nemo con i disegni della monica ragazzi meravigliosi abbiamo visto delle tavole anteprima un po di tempo fa e poi un'altra storia con i pirati di game bill di game bill con jean lafitte e il suo o con il suo braccio destro con us ok poi si arriverà al numero 700 sappiamo disegnato da piccinelli e ci sarà anche il ritorno poi successivamente di super mike insomma ragazzi mi sembra un'annata notevole ok sfogliamo un attimo questa storia vediamo qualche tavola vediamo un po ma lo quitato c'è una tavola grande enorme proprio una pagina intera riflesso nella luce forse ecco così si vede meglio qui c'è sempre la storia di del passato di rocas che sta raccontando ok sfogliamo un po velocemente un sacco di azione fare di vedere un altro combattimento in acqua poi si torna anche questa bella storia ragazzi ok ragazzi qui si capisce che la compagna di rocas muore ma lo sapevamo già non è che vi spoiler niente era già stato detto più volte ok anche queste vignette in campo lungo molto bene vediamo un po se c'è qualche altra tavola da sfogliare acquizzato vedersi traveste ovviamente per entrare nell'accampamento nemico ok ora non vi voglio far vedere troppo perché non l'ho letto non vi voglio far vedere il finale viene catturato vediamo come si libererà ok ragazzi va bene qui poi arriveremo alla fine che non vi faccio vedere per non rovinarvi la sorpresa vabbè ragazzi ora speriamo in un finale mi sembra sfogliandolo notevole che c'è un sacco di azione una bella trama insomma con degli zagor che viene catturato ma si traveste per entrare al campo nemico la storia finale della vita di rocas la sua vita precedente prima di cominciare ad essere un trappere vediamo vediamo ragazzi fino adesso una storia molto bella questo abbiamo visto che era la banda degli assassini il prossimo numero dal 2 marzo e della bonelli digital classica abbiamo già detto va bene ragazzi ora già in edicola da oggi campo nemico numero 742 dello zenit buona giornata a tutti